Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Come potete vedere oggi parliamo di Evercrisis ma non parliamo di Evercrisis come sempre perché oggi all'una ora italiana che corrispondono praticamente alle 8 di sera ovviamente orario giapponese è stata trasmessa sul canale giapponese una live da parte di Square Enix dove si è parlato di Evercrisis, di tutti quelli che saranno gli eventi futuri, la collaborazione che ormai si vociferava da tempo potesse arrivare a fine mese e poi tante altre piccole chicche che scopriremo man mano in questo video. Cominciamo ovviamente dalla schermata iniziale della live streaming che mi serve un po' da introduzione e poi successivamente passiamo a un artwork o come per dire una realizzazione, una rappresentazione di quello che sarà fondamentalmente la nuova season, la nuova stagione di First Soldier con annesso trailer che abbiamo già visto all'interno del gioco completando gli ultimi capitoli e che qui ci mostrano praticamente sia Young Sephiroth ed ovviamente ci confermano la presenza ufficialmente di Young Anjil che sicuramente sarà uno dei personaggi che verrà aggiunto poi con la versione della seconda stagione quindi di conseguenza sarà un personaggio giocabile. Successivamente abbiamo la novità più grande che forse stavamo aspettando e che praticamente ci ha in un qualche modo accompagnato per tutto questo tempo ovvero l'introduzione della gilda. Questo è il menu principale per quanto riguarda la gilda e ovviamente avremo la possibilità di poter comunicare e di poterci diciamo in un qualche modo organizzare con più giocatori all'interno di un gruppo più grosso piuttosto che le 30 misere amicizie che praticamente caratterizzano il nostro profilo. Abbiamo diverse icone e abbiamo anche diverse voci che fondamentalmente possiamo iniziare ad intravedere all'interno di questo menu partendo appunto da in alto a sinistra dove per l'appunto abbiamo il livello della gilda abbiamo comunque la possibilità di vedere il nostro livello di crescita per quelli che ovviamente faranno parte di quella che sarà la gilda perché comunque farò la gilda molto probabilmente in collaborazione con i ragazzi della community italiana ma vediamo un po' come si sviluppa la situazione. Successivamente abbiamo la coppa che rappresenta invece il menu delle missioni di gilda successivamente il tasto sotto abbiamo un'implementazione molto particolare che dovrà essere in un qualche modo approfondita perché abbiamo gli scambi con membri di gilda quindi probabilmente ci si potrà scambiare degli oggetti che servono per la crescita della gilda o comunque servono in un modo o nell'altro per potenziare quello che è appunto il gruppo di questa gilda successivamente abbiamo i messaggi, le news o comunque in generale gli avvisi che i capi gilda potranno inserire all'interno della discussione e potranno in un qualche modo portare a degli aggiornamenti ai membri attivi e poi successivamente abbiamo il menu potenziamento gilda che è quello che vedete in fondo con quel simbolo praticamente di un atomo è fondamentalmente il menu del potenziamento infatti sotto dove invece vedete la Buster Sword praticamente viene rappresentato il bonus gilda il bonus gilda che viene appunto catalogato con del punteggio come potete vedere che in questo caso è il fantomatico 7777 e poi abbiamo i livelli delle varie sezioni che possiamo andare a potenziare con la gilda mentre invece sulla destra potete notare la chat infatti sarà possibile poter scrivere direttamente all'interno della chat ci saranno anche gli stickers come potete vedere quindi ci sarà modo comunque di avere una messaggistica all'interno del gioco per parlare con i membri della propria gilda quindi una implementazione non da poco ovviamente non c'è una chat vocale però avere già comunque una chat scritta è veramente tanta bella robetta successivamente abbiamo le varie sezioni che come stavamo dicendo prima sono praticamente i potenziamenti della nostra gilda i potenziamenti della nostra gilda che ci consenteranno in un qualche modo anche tramite le immagini praticamente di capire bene o male ciò che effettivamente andremo a potenziare ovvero le materie che bisognerà vedere se verranno potenziate anche fuori dalla gilda perché comunque la gilda sembra essere un ambiente interno dove ci sono potenziamenti interni regole interne e ovviamente niente interferenze da fuori però bisognerà vedere un po' come implementeranno nel dettaglio però abbiamo il menu delle materie dove potremo in un qualche modo potenziare le nostre materie o comunque in generale le materie dei membri della gilda successivamente abbiamo la battaglia rappresentata dal guard scorpion che ci consentirà in un qualche modo di magari incontrare nemici più rari o comunque avere la possibilità di avere dei bonus veri e propri in battaglia come attacco, difesa eccetera eccetera poi abbiamo il chocobo che anch'esso fa parte del bonus di quello che avremo in gilda probabilmente con delle esplorazioni di gilda e poi abbiamo anche l'high wind che appunto così come stiamo ottenendo praticamente dei bonus individuali potrebbe in un qualche modo permetterci di ottenere appunto bonus di gilda mentre invece per quanto riguarda la destra come potete vedere abbiamo degli effetti abbiamo degli effetti che sono comunque già attivi che in questo caso sono attivi per quanto riguarda il menu della gilda infatti se notate la selezione del tasto è sulla materia e infatti abbiamo il bonus per quanto riguarda la materia in questo caso abbiamo il bonus di sintesi della materia che praticamente sulla destra il più 15 rappresenta uno sconto dei materiali che dobbiamo utilizzare per craftare le materie quindi questo già è un grandissimo vantaggio per non sprecare troppe risorse e poi abbiamo un più 4 che vedete là in fondo che è praticamente una correzione della rarità dei materiali composti quindi molto probabilmente si avrà una sorta di incremento per quanto riguarda la rarità che fuoriusciranno dal crafting delle nostre materie quindi sarà interessante vedere come gestiranno questi bonus e sarà soprattutto interessante vedere come riusciranno ad implementarli in un universo diciamo a sé come quello della gilda oppure se tutti questi potenziamenti e queste implementazioni in generale verranno inserite anche sulla carriera chiamiamola così del giocatore singolo andiamo ancora avanti perché abbiamo un altro pannello in questo caso sempre della gilda che come potete vedere viene rappresentato in alto a sinistra da un punteggio quindi avremo comunque una classifica perché ci saranno le classifiche delle gilde che in quel caso viene rappresentato dal numero 10.000 quindi in questo caso lo screen rappresenta una gilda posizionata nella 10.000 nella 10.000esima posizione e sotto invece il milione dove vedete scritto un milione rappresenta praticamente il punteggio totale quindi ci saranno dei punteggi da effettuare all'interno delle gilde che poi ci consentiranno di crescere come ranking sulla sinistra avete sempre a disposizione la chat perché comunque la chat sarà presente anche all'interno di questo menu probabilmente per organizzarsi con le truppe organizzarsi con le squadre organizzarsi anche con i membri interni che magari potranno in un qualche modo aiutare di più poi in basso abbiamo invece i tre tasti dove abbiamo informazioni sull'evento missioni sbloccabili dall'evento e poi abbiamo il cambio abbiamo praticamente lo scambio di oggetti che sarà possibile appunto penso scambiare tramite i punti o comunque tramite diciamo il lavoro effettuato all'interno della gilda successivamente in alto a destra vedete il nome del boss che in questo caso è versus drago rosso quindi red dragon e poi accanto ancora avremo il tempo rimanente dell'evento che in questo caso segnala 5 ore rimaste ma a noi sinceramente poi ovviamente frega poco perché vedremo poi successivamente tutto quello che succede le icone invece accanto al ranking della nostra gilda rappresentano la corona e il pacco regalo ovviamente la leader board che vedrà presenti tutte le altre gilde per confrontare i punteggi e invece i gift saranno praticamente gli oggetti che riusciremo ad ottenere in base al posizionamento della nostra classifica avremo diversi stage come potete vedere sempre sulla destra che varieranno di difficoltà infatti avremo un primo stage a difficoltà 1 stage 2 a difficoltà 2 stage 3 a difficoltà 3 e stage 4 a difficoltà 4 quindi più difficoltà si riusciranno a buttare giù e più ovviamente riusciremo in un qualche modo ad avere ricompense perché giustamente avremo più ricompense mentre invece piccolo particolare che potete notare dove c'è scritto lo stage 1 sopra il 25% vedete scritto 3 e poi la frase ecco lì praticamente viene indicato quante persone stanno partecipando all'evento quindi ci sarà la possibilità anche di vedere effettivamente quante persone stanno partecipando a questi raid o comunque a queste battaglie e poter vedere effettivamente chi è stato attivo o magari chi in quel momento non è riuscito a poter contribuire appunto alla crescita della gilda e poi decidere ovviamente se prendere provvedimenti o meno andiamo ancora avanti invece con le armi che in questo caso saranno delle armi ottenibili gratuitamente tramite appunto le ricompense battaglia gilda quindi man mano che noi combatteremo all'interno di queste difficoltà combatteremo all'interno di questi eventi accumuleremo punti e magari potremo anche scambiarle con i punti che accumuleremo queste saranno tutte armi free to play che potremo ottenere tramite i punti della battaglia gilda ovvero la mazza chiodata per Cloud l'anello di bambù che invece è un'arma per Yuffie il pugno a razzo che è un'arma mi sa di Barrett e poi invece abbiamo le cuffie le safe and sound che sinceramente dovrebbero essere di Lucia quindi vedremo poi nel dettaglio quando metteranno anche le varie statistiche e le varie caratteristiche specifiche di queste armi ma in teoria dovremmo avere questi personaggi per riscattare per l'appunto queste armi successivamente andiamo ancora avanti con una notizia che forse potrà far gioire diverse persone ovvero il ritorno praticamente dell'evento della spiaggia quindi praticamente eventi estivi che ritornano all'interno del gioco però con una piccola novità infatti l'evento si chiama inizia l'estate festival dei fuochi d'artificio e poi abbiamo festa sulla spiaggia eccetera eccetera e poi il sottotitolo in basso indica appunto evento stegionale che si verrà appunto a tenere quindi quello che sarà il prossimo evento estivo e qui infatti vengono mostrati praticamente i vecchi costumi di Tifa e di Eris che saranno disponibili in questo evento non so non ho avuto conferma effettivamente del fatto di ricevere anche il costume di Cloud spero di sì da un lato perché sarebbe interessante andarlo a recuperare non so se usciranno appunto i banner annessi perché ovviamente queste armi chi gioca dal day one ormai ce le ha praticamente maxate ma potrebbero effettivamente inserire i costumi all'interno dei banner e far scegliere tramite appunto il dodicesimo stampo in questo caso magari di prendere un costume che non si ha mentre invece verranno aggiunti come twist fondamentalmente di questo evento il nuovo costume di Yuffie che appunto è questo che vedete su schermo che è estremamente gnocco oserei dire se volessi definirlo in un termine e poi un costume che appena l'ho visto io sono impazzito quello di Lucia incredibilmente bello cioè veramente Lucia con questo costume è di una bellezza inaudita sono rimasto quasi paralizzato nel momento in cui l'ho visto perché ho detto madonna che gnocca proprio letteralmente ma comunque detto ciò questo sarà probabilmente l'evento estivo che ovviamente si alternerà e susseguiranno banner eventi difficoltà eccetera eccetera passiamo alla prima vera chicca di questo di questa live o comunque di questo video presentando quello che sarà un nuovo personaggio giocabile nei prossimi capitoli di gioco ebbene sì ebbene sì Vincent Valentine Vincent Valentine è stato ufficialmente annunciato come prossimo giocatore giocabile anzi personaggio giocabile all'interno di Ever Crisis proprio perché lo andremo ad incontrare con uno dei prossimi capitoli quindi Vincent era uno dei personaggi che molti probabilmente stavano aspettando non sono un grande fan di Vincent Valentine a differenza di quello che si possa pensare però bisogna vedere anche come verrà sfruttato all'interno del gioco perché abbiamo visto appunto effettuare diversi danni si è visto anche un poison possibilmente all'interno del suo kit si sono viste delle limit che sembrano essere interessanti vedremo effettivamente che cosa riusciranno a combinare all'interno del gioco detto ciò abbiamo anche una sorta di calendario fondamentalmente che ci permettono di ottenere delle informazioni aggiuntive dove praticamente abbiamo una sorta di recap fondamentalmente qui abbiamo avuto una sorta di recap perché la live è stata divisa praticamente in due segmenti un primo segmento dove si è parlato di quelle che saranno appunto delle innovazioni delle novità e poi invece nella seconda parte abbiamo praticamente ciò che è già praticamente nel gioco e che arriverà a brevissimo infatti abbiamo praticamente come recap in questo caso l'implementazione della funzione della gilda quindi battaglia della gilda e ricompense della battaglia gilda l'evento estivo che comunque viene diciamo riproposto all'interno del gioco però con il costume di Yuffie e il costume di Lucia che verranno inseriti all'interno di questo evento e poi successivamente tramite il capitolo 7 di Final Fantasy 7 avremo il personaggio giocabile di Vincent Valentine quindi questo diciamo è stato il piccolo recap che ci hanno voluto fare anche perché dopo questo recap e dopo questa prima parte di live è stata annunciata quella che effettivamente stavamo aspettando tutti ovvero la collab che è un po' Ebbene sì, una collab che in realtà nessuno si aspettava con Square Perché comunque Ever Crisis aveva annunciato che avrebbe fatto delle collab Ma inizialmente aveva preannunciato delle collab soltanto all'interno della propria casa di distribuzione Quindi all'interno di Square Enix Invece qui abbiamo a quanto pare Capcom Che tramite appunto il gioco di Monster Hunter Praticamente hanno implementato questa collab Una collab che si chiama Il Drago di Fuoco Danza di Fuoco a Midgar Che sarà attiva praticamente a partire dal 31 maggio Dove appunto avremo questi permessi, chiamiamolo così, di caccia Perché appunto la collab è strutturata come il gioco di Monster Hunter Per chi non conoscesse il gioco di Monster Hunter È un gioco che tratta per l'appunto la cattura e l'uccisione di alcuni mostri Che invadendo la terra hanno compromesso praticamente l'ecosistema Per fare la trama proprio becera becera e proprio stretta stretta Ma c'è veramente tanto da approfondire Vi consiglio tra l'altro di recuperare Monster Hunter se non l'avete fatto Perché soprattutto il multiplayer vi potrà regalare veramente tante ore di divertimento Ma parliamo delle cose importanti Parliamo delle cose importanti come la presentazione del boss Ovvero il Drago Adesso non mi stava venendo in mente il nome Ma se non sbaglio era il Ratlas Se non mi ricordo male il nome Ovviamente da tanto io non gioco a Monster Hunter Quindi non mi ricordo bene i nomi di tutte le creature Quindi perdonatemi Ma questa dovrebbe essere Ah no la Rathian se non sbaglio Forse era la Rathian Perché era quella femmina se non mi ricordo male Che comunque sarà e rappresenterà fondamentalmente il boss che dovremo combattere Quindi un boss che ovviamente sfrutta l'elemento fuoco Vedremo un pochettino come riusciremo a counterare questo avversario Con il personaggio di Cloud Che come potete vedere ha praticamente la possibilità di unirsi con una delle creature Presenti all'interno di Monster Hunter Io ragazzi purtroppo non mi ricordo i nomi delle creature Nonostante tutto anche se ci ho provato a ricordarli Ma è da troppo tempo che non gioco a Monster Hunter Quindi perdonatemi Come potete vedere abbiamo tutti i personaggi che saranno protagonisti della collab Praticamente uniti o comunque presi di ispirazione da creature o personaggi presenti all'interno del gioco Infatti come potete vedere Cloud otterrà praticamente il costume e l'arma Ma proprio rifacenti il mostro che abbiamo visto poco fa Stessa cosa per Zack Che vedremo tra poco Ma intanto qui presentiamo l'arma praticamente di Cloud Un'arma che sblocca l'abilità lama feroce o flash addomesticato Anzi l'arma feroce poi spazio flash addomesticato Che praticamente permette di infliggere fino all'850% di danni fisici non elementali a un singolo nemico Inoltre riduce la difesa fisica di questo avversario E aumenta consecutivamente il potere dell'attacco fisico Se i propri HP sono superiori al 50% Quindi abbiamo praticamente una sorta di hard edge potenziata Perché fondamentalmente questa fa le stesse cose dell'hard edge Solo che al tempo stesso vi consente anche di potenziarvi con solo 4 barre ATB Quindi capite benissimo che le armi collab come sempre sono rotte da fare schifo Quindi abbiamo un'arma che praticamente fa 3 in 1 Perché fa danno, riduce la difesa fisica e al tempo stesso aumenta l'attacco fisico Tutto in potencies mid a partire ovviamente da subito Quindi praticamente abbiamo un buff, un power up incredibile in un colpo solo Quindi veramente tanta bella roba quest'arma È un'arma non elementale quindi praticamente può essere utilizzata ovunque Molto 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 interessante Successivamente abbiamo Zack Che anche lui come stavo dicendo protagonista insieme a Cloud di questa prima parte fondamentalmente di crossover Avrà la possibilità di ottenere anche lui arma annessa con la skin Sempre ispirata alla creatura di Monster Hunter Anche lui prenderà praticamente un'arma che come potete notare già il nostro Arcanum fisico a quanto pare è arrivato Però non è arrivato con Sephiroth ma molto probabilmente arriverà con Zack Infatti abbiamo praticamente l'ama del fulmine In teoria dovrebbe chiamarsi l'attacco Che infligge fino al 940% di danno fisico di elemento tuono al singolo nemico E quando i propri HP sono superiori al 70% infliggiamo l'1,2% di danni in più Cioè nel senso il danno è moltiplicato di 1,2 Quindi non facciamo danno 1 per ma abbiamo praticamente una percentuale in più Che ci consente di aumentare i danni nei confronti del nostro avversario Anche questa è un'arma molto interessante Bisogna vedere se Zack prenderà l'Arcanum Sinceramente parlando Arcanum fisico tuono Io preferisco tenermi Cloud Che ho già bello maxato dall'inizio del gioco È un'arma assolutamente interessante Ma sinceramente parlando non spendere le risorse qui Ma molto probabilmente l'arma qui da effettivamente comprare O comunque l'arma su cui investire è probabilmente quella di Cloud Quella di Cloud sembra essere veramente veramente ottima Perché può essere utilizzata praticamente da tutte le parti E poi ha degli effetti pazzeschi Andiamo avanti invece con Tifa Che molto probabilmente sarà giunta nella seconda fase della collab Infatti come potete vedere abbiamo Tifa Con l'ispirazione della creatura Che appunto le darà fondamentalmente skin e anche arma Quindi che viene tradotto fondamentalmente con vestito giraffa Anche se effettivamente giraffe su Monster Hunter io ne ho viste ben poche Poi abbiamo Eris che invece prenderà in questo caso il ruolo di Inoe Che era praticamente l'NPC che ci dava il benvenuto su Monster Hunter Rise Per chi lo ha giocato E infatti come potete vedere abbiamo la possibilità di avere l'arma di Eris Con skin abbinata al personaggio in questione Poi abbiamo anche Kite Seat Che praticamente prende spunto sempre dal Diciamo dalla collab di Monster Hunter Dove appunto abbiamo Airu e Garuk Che sono per l'appunto le creature che noi avevamo al nostro seguito Ovvero il Gatto Ninja e il Cane Ninja Che ci seguivano durante le missioni All'interno sempre di Monster Hunter Rise Quindi per chi ha giocato Monster Hunter avrà sicuramente un bel ricordo E infatti come potete vedere l'ispirazione per quanto riguarda la skin Abbiamo Kite Seat vestito appunto da Gatto Ninja E invece il Moguri gigante vestito da Cane Ninja Con ovviamente arma annessa Il megafono annesso di Kite Seat Che ci consentirà di poter effettuare i danni O comunque vedere in generale come si svilupperà questa collab Ci sono cinque personaggi in totale in collab Quindi molto probabilmente avremo un banner doppio O due banner doppi e uno singolo Non so, vedremo Questo invece è il calendario Che avremo a disposizione praticamente per il mese di giugno, luglio e agosto Fino ad arrivare a settembre in cui arriveremo al primo anniversario Primo anniversario ho paura di vedere robe veramente veramente incredibili Veramente grosse Quindi ragazzi teniamoci forte Cerchiamo di accumulare e cerchiamo di... Non lo so, di mettere qualcosa da parte Perché veramente il primo anniversario sarà un qualcosa di eccezionale Partiamo leggendo il calendario da giugno Dove appunto abbiamo il capitolo numero 3 di Crisis Core Final Fantasy VII Che verrà rilasciato ora nei primi giorni di giugno Successivamente abbiamo invece la collab di Monster Hunter Che comincerà il 31 Ma ovviamente si protrarrà per una buona parte del mese di giugno Probabilmente metà mese se lo mangia soltanto la collab O se non addirittura tutto il mese Perché con tutti i banner, con tutti gli eventi che hanno inserito È molto probabile che avremo tutto il mese di giugno con l'hub di Monster Hunter Successivamente abbiamo il mese di luglio Con il nuovo capitolo di Final Fantasy VII Ovvero il capitolo 7 di Final Fantasy VII originale Evento estivo che abbiamo già visto Con l'introduzione dei nuovi costumi di Yuffie e di Lucia Nuovo personaggio giocabile di Vincent Valentine Collegato al capitolo numero 7 sempre di Final Fantasy VII E poi introduzione delle gilde con tanto di ricompense E tutto quello che abbiamo discusso poco fa Mentre invece per quanto riguarda il mese di agosto Avremo il capitolo 4 invece di Crisis Core Campagna celebrativa che ancora non sappiamo di che cosa parla Ma abbiamo una campagna celebrativa Una festa Che sarà appunto un evento stagionale Anzi in realtà come c'è scritto lì dalla traduzione È un evento stagionale che sarà rilasciato ad agosto Ma ancora non sappiamo i dettagli Inoltre avremo praticamente il potenziamento di Ramu Quindi ad agosto avremo anche Ramu Che supererà il limite come lo ha già superato Shiva Quindi Shiva ha già portato la sua limite al 10 Il prossimo sulla lista è Ramu E poi addirittura abbiamo la torre dei Cetra Che raggiungeranno il piano 100 Quindi abbiamo un grandissimo update Abbiamo tanti piccoli update Tante piccole cose che ci aspettano da qui Fino al mese di settembre Che poi come potete vedere bello grosso Ci annunciano già il primo anniversario Primo anniversario che ripeto Secondo me sarà un qualcosa di estremamente grosso Quindi ragazzi mi raccomando Cerchiamo di arrivare all'anniversario con le tasche piene Non cadiamo in trappole superfle Sperando anche se dicendo così Le uniche trappole tra virgolette che mi vengono in mente Sono soltanto Vincent Per vedere come lo hanno fatto E quest'arma collab di Cloud Che sembra essere un qualcosa di veramente veramente ottimo Però non so se effettivamente ci voglio pullare Perché comunque bisogna vedere anche le Refined Vedremo le Refined che saranno sicuramente ottime E io ci cascherò come un pollo Successivamente abbiamo i regali Che ci verranno forniti dalla live stream Avremo quindi la possibilità di poter ottenere 10 biglietti gacha premium Che potranno essere utilizzati in qualsiasi banner Come ben sapete al posto delle gemme Un biglietto gacha per un'arma random 5 stelle 20 pozioni per la nostra stamina E il boost per Lightwind di 50 Effettivamente questo boost del Lightwind Non so che cosa sia O comunque non mi sta venendo in mente Se è già un oggetto che abbiamo Ma vi ripeto Non mi sta completamente venendo in mente Ma sicuramente è un oggetto che già conosciamo E poi infine praticamente abbiamo L'annuncio finale Che praticamente avremo per 3 giorni consecutivi Un bonus login di ben 1000 gemme Quindi praticamente avremo per i prossimi 3 giorni Dopo ovviamente la stream immagino Quindi a partire già da stasera O comunque già a partire da domani Avremo praticamente questo bonus login di ben 3 giorni Dove otterremo 1000 gemme al giorno Detto questo ragazzi ho finito Spero di... Ho registrato un pochettino Ma ragazzi la live è durata tanto Ho cercato di ridurre al minimo tutte le informazioni Ma ci tenevo comunque a fornirvi tutti i dettagli del caso Detto ciò Spero che il video possa esservi stato utile Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate Di tutto questo ambaradan di roba che hanno annunciato Io vi ringrazio come al solito Per essere stati con me in video Spero di beccarvi anche in live sul canale Viola E detto ciò Io vi ringrazio per essere stati con me E ci becchiamo alla prossima Bye bye Ehm... Ciao... Ciao...